In base a quanto riferito, la Corea del Nord sta smantellando i propri impianti nucleari. Recenti immagini satellitari mostrano che la Corea del Nord ha iniziato a smantellare il principale sito di collaudo dei missili nucleari. La notizia è apparsa lunedì scorso sul sito web 38 North, dedicato ad approfondimenti e analisi sulla Corea del Nord. Il mese scorso, durante lo storico incontro con Donald Trump, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha promesso di denuclearizzare il paese. Le immagini satellitari mostrano la demolizione di una parte dell'edificio adibito all'assemblaggio dei veicoli da lanciare nello spazio, unitamente ad un'altra area dello stabilimento utilizzata per la progettazione dei motori per i missili balistici. I lavori di abbattimento sono in corso presso la stazione di lancio satellitare di Sohae, vicino al confine con la Cina. In base alle immagini, si può presumere che le operazioni siano iniziate da un paio di settimane. Joseph Bermudez, un esperto del programma di armamenti nordcoreano, ha definito lo smantellamento un primo passo importante, precisando però che in passato la Corea del Nord ha già intrapreso azioni finalizzate a nascondere le sue reali intenzioni. Per esempio, ha aggiunto che i lavori potrebbero proseguire da un'altra parte, concentrandosi su una diversa tecnologia di armamento nucleare. Ovviamente, voglio sperare che si tratti di una mossa concreta verso la denuclearizzazione. Mi domando quale sia l'effetto reale sul programma di armamenti nordcoreano? È troppo presto per capire cosa significhi veramente la demolizione di questo sito. Solo all'inizio del mese circolavano voci che la Corea del Nord stesse potenziando gli impianti di arricchimento dell'uranio. Non è per nulla chiaro quali siano i piani di Kim Jong-un. Romina, sicuramente il presidente Trump sarà molto soddisfatto dei risultati ottenuti grazie al suo modo di agire con la Corea del Nord. Il suo modo d'agire? Il tendevi dire insultare e minacciare l'avversario, vero? Beh, sostanzialmente sì. Come si comporterà con gli altri paesi da lui considerati nemici degli Stati Uniti? Pensi all'Iran? Sì, la minaccia inviata da Trump via Twitter al presidente Rouhani domenica scorsa, scritta tutta in maiuscolo, era praticamente una copia delle sue intimidazioni nei confronti della Corea del Nord. La situazione è molto più complicata, Stefano. L'Iran considera gli Stati Uniti inaffidabili dopo il loro ritiro dal presente accordo nucleare. E mentre Kim Jong-un nelle trattative con gli Stati Uniti non ha avuto, almeno ufficialmente, alcuna resistenza interna, Rouhani si troverebbe di fronte un'opposizione ben più agguerrita.